Wabalabadabdave bentornati su No Mamamazzo e bentornati da Luca Comics and Games 2022 Hope! Se ci siete stati sapete cosa si prova, se non ci siete stati assorbitevi questo video Questa è la mia esperienza a Luca Devo dire a mani basse che come ho già scritto sugli altri miei social, su Instagram in particolare dove ho fatto un post che però trovate anche nella scheda community e ho fatto delle stories che invece trovate solo su Instagram cercherò di mettere qua delle foto per farvi un po' capire è stata la mia Luca più bella non perché sia stata priva di difetti ma sicuramente quella che mi ha dato più soddisfazione a livello personale e non lo so, professionale se vogliamo definire questo mio hobby un'esperienza professionale sono stato molto felice perché è stata una Luca che mi ha soddisfatto per tutte le sfaccettature nerd della mia personalità c'è la grossa fetta cosplay a cui avevo dato molto più agio negli anni passati magari sacrificando l'esperienza da turista, l'esperienza da lettore, l'esperienza da divulgatore diciamo di cultura nerd mentre quest'anno finalmente ognuno, ogni parte della mia nerditudine ha avuto una fetta di torta dal punto di vista del cosplay sono stato davvero felice di poter partecipare al raduno per i 60 anni di Spider-Man con John Romita Jr. e fare una foto insieme a lui sono stato molto felice di essere stato l'unico in quel giorno in particolare essere stato l'unico Spider-Man con la versione The Last Stand che ho fatto apposta per mostrarla a John Romita Jr., purtroppo c'era troppo casino non l'ha vista ma sono stato comunque felice di averla indossata in sua presenza avrei poi anche voluto indossarla il giorno che invece John Romita Jr. ha firmato i miei fumetti ma purtroppo non l'ho indossata quel giorno, non ho avuto modo di farlo però sono comunque stato molto entusiasta di conoscere, di incontrare John Romita Jr. in ben due occasioni una delle quali ho avuto una foto con lui e degli autografi su dei fumetti a cui tenevo particolarmente infatti il secondo aspetto di cui sono molto fiero è il fatto che dopo tanti anni in cui fondamentalmente rimbalzavo da un padiglione all'altro senza meta ho finalmente fatto, vabbè un programma lo avevo fatto anche in passato però finalmente sono stato abbastanza paziente da stare in coda per un firmacopie non ce l'avevo fatta con Frank Miller, c'erano anche altri motivi, se non sbaglio c'era da acquistare un volume che era finito invece a questo giro sono felice di essere andato contro la mia naturale impazienza e aver gestito un pochino questo aspetto della mia personalità per ottenere un risultato e sono molto felice di averlo ottenuto e finalmente appunto, sempre perché ho smesso di rimbalzare come una pallina in un flipper ho assistito a parecchi panel per i miei gusti ho assistito al panel di presentazione di Kalia, il nuovo fantasy della Bugs Comics con cui ormai sono in buonissimi rapporti, è sempre un piacere vedere Gianmarco Fumasoli Antonella Liverano Moscoviti, Lisa Salsi, anche Luca Lamberti in questo caso dato che si parla di Kalia e Leonardo Cantone poi ho assistito anche al panel di presentazione del nuovo nuovo Dylan dove non lo so, non so quanto ci sia di nuovo da poter dire senza fare spoiler tant'è che il panel è andato un po' come prevedevo cioè dove si è un pochino presentato quello che ci si aspetta da Dylan Dog per il nuovo nuovo inizio ma senza poi dirci effettivamente qualcosa di concreto ma la Bonelli si sa, fa sempre così vedremo, vedremo poi dal 435 che comunque ho trovato in anticipo a Luca quindi sono stato molto felice e poi ho assistito non so se si può definire panel ma ho assistito all'anteprima di Dampir ho anche fatto un video di recensione a posto lo trovate qua nelle schede, qua sotto in descrizione sono stato molto felice di assistervi era presente il trio Medusa a presentare appunto l'anteprima c'era il red carpet in diretta in tutte le sale cinematografiche UCI Cinema e Star, se non sbaglio, se non ricordo male Space, scusate, Space e sono stato felice di vederlo accanto al mio fidato collega di divulgazione nerd Luca DJ così come sono stato felice di aver incontrato anche gli altri youtuber, streamer, influencer chiamateli come volete con cui ho collaborato da Pelati e Fumetti al Vecchio Nerd al... non tutto lo stormo perché non ho collaborato con tutto lo stormo ma sono stato felice di averlo visto ai panel Marvel sono stato felice di incontrare Mattia Mazzo Sir Victor Jessica Giorgia Senesi e di aver incontrato Blue Moody che non ci ho mai collaborato ma sono stato felice di incontrarla e anche Nido che ho incontrato prima in veste di... nel panel della Marvel e poi ho incontrato in autogrill quindi sono stato felice ho finalmente incontrato tutto lo stormo sono stato molto contento si sa, Luca è grandissima ed è davvero difficile vedersi infatti ci sono un paio di persone che non ho visto e mi dispiace tantissimo ci sono state altre persone con cui mi sono organizzato per vedersi e sono riuscito a farlo ci sono invece state delle persone che non temevo di non poter vedere di non riuscire a vedere invece le ho incontrate per caso mi riferisco a Blue Sberry che sono stato davvero contento di aver incontrato per caso per ben due volte una volta dentro allo stand della Panini dove tra l'altro se mi giravo un secondo più tardi non l'avrei beccato e un'altra volta in giro per Luca quindi sono stato davvero contento di aver incontrato anche Blue Sberry al panel di Kalia e al panel di Dylan Dog ho incontrato anche le Two Horizon quindi sono stato molto felice di averle conosciute finalmente di persona e quindi ecco diciamo aver portato un po' di real life in questi incontri che facciamo sempre virtualmente nelle nostre live finalmente mi sono sentito a casa più anche degli altri anni in questa Luca Luca che ho vissuto finalmente anche di sera complice a un alloggio molto vicino ho vissuto anche finalmente la famosissima nominatissima piazza anfiteatro la sera dove appunto dove ti giri ti giri becchi un'illustre personalità del mondo della cultura pop da Davide Marra a Calella da Victor Laszlo a Rob McQuack a Andrea Bellucci a chi più ne metta anche streamer di Twitch che magari conosco solo di vista ma che all'occhio riconosco al volo insomma non riuscivi a girarti senza trovare una persona famosa perché la essere famosi è relativo però diciamo famosa in questo in questo settore quando ti accorgi che una persona è famosa all'interno di una certa community ma magari non in senso assoluto ti rendi conto di quanto si faccia parte di una certa appunto community di una certa cerchia di una certa famiglia ed è davvero molto bello vedere tutta questa grande famiglia ritrovarsi in un unico punto in un'unica città che è Lucca menzione speciale al fanciullo che è in me come diceva un poeta finalmente ho avuto l'occasione di incontrare dal vivo l'auto dei miei sogni ovvero la Ecto 1 la Ectomobile l'auto dei Ghostbusters ragazzi io lo so che è solo un'auto ma rappresenta tantissimo rappresenta la mia infanzia rappresenta quel andare oltre la realtà andare immergersi nella fantasia in un mondo che non è quello reale ma è un mondo dove diciamo ci si può coccolare ed è la cosa più antica per quanto mi riguarda dal punto di vista nerd a cui sono affezionato dato che si parla di quando avevo forse 5 o 6 anni quando uscì il giocattolo della Ecto 1 Mobile e da quando ho visto dal vivo la DeLorean di Ritorno al Futuro mi era venuto il pallino di incontrare dal vivo anche l'auto dei Ghostbusters finalmente ce l'ho fatta non solo l'ho fotografata accanto a me ma ci sono persino salito arriveranno anche le foto dove sono a bordo della Ecto 1 sono state fatte con la Reflex quindi arriveranno un pelo più tardi seguitemi su Instagram così le vedrete che dire quindi ragazzi al netto comunque di tutti per carità i difetti che ci sono nel gestire nel vivere una fiera così mastodontica difetti che francamente non mi sento nemmeno più di incolpare nessuno perché è talmente enorme talmente giganorme la mole di persone di cose da gestire che molte cose inevitabilmente vanno come sono andate quindi mi dispiace per le infinite code mi dispiace per appuntamenti che sono saltati per le infinite code come per esempio Tim Burton lo stesso John Romita Jr. i primi giorni io stesso sono andato ogni giorno al firmacopie di John Romita Jr. per riuscire solo l'ultimo giorno perché ero andato alle 6 del mattino facendo 8 ore di coda ad ottenere 3 firme e una foto purtroppo fa parte del gioco è un gioco a cui non tutti sono abituati perché non tutti vengono a Lucca da 20 anni ma magari vengono da due anni, da un anno e quindi ci restano inesorabilmente molto male e per questo mi dispiace molto se ci fosse un qualunque consiglio che potrei dare agli organizzatori di Lucca che gli organizzatori di Lucca stessi non hanno già valutato negli ultimi 50 e passa anni lo darei ma francamente non so nemmeno io come potrebbero risolvere alcuni aspetti mi auguro solo che se c'è un'idea spero che venga fuori spero che accontenti più persone possibili perché tutte le persone non sarà mai possibile accontentarle ma in generale la mia esperienza di questa Lucca è stata davvero, davvero positiva e non vedo l'ora del prossimo anno, della prossima Lucca Comics per incontrare di nuovo gli amici di sempre gli amici virtuali che sono un po' meno virtuali grazie a questo appuntamento grazie per avermi seguito anche in questo video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo